Sono iniziati i lavori per lo smantellamento della torre panoramica che da diverso tempo svetta sul piazzale della Libertà a Pesaro. Il cantiere è aperto, i camion della società hanno transennato gran parte dell'aria e hanno già asportato le prime parti della struttura. Secondo i tecnici ci vorranno alcuni giorni per smontare definitivamente tutto il complesso. I lavori non si prolungheranno oltre il 20 settembre, data prevista per la rimozione. Prossima tappa della torre dopo Pesaro sarà Mainz, cittadina tedesca, affacciata sul fiume Reno. Intanto durante le operazioni di smontaggio alcuni passanti e curiosi si sono lasciati andare ad alcuni commenti. Io l'ho sempre vista come una cosa che dava lustro alla città in tutti i sensi e quindi io la vedo, io penso che anche alla palla mancherà un pochino questa torre che le ha fatto compagnia in questo anno, negli inverni con la nebbia e nell'estate con il sole. Ci sono tutte queste voci sempre contrarie e negative, io sono venuto invece qui con una punta di nostalgia e vedere che portano via dei pezzi di torre è come se portassero via un pochino anche il tempo mio che ho vissuto. Quindi positiva l'installazione, è stata positiva? Per me sì, per me sì, ha tirato parecchia gente. Secondo lei non è indicato il posto per un'installazione di una torre, eventuale ruota panoramica? Un posto sbagliato secondo me, no si può fare qualcosa però non è in questo modo. Se rimaneva per me non c'era nessun problema, tutto sommato è un esperimento che è piaciuto a me. Arrivava gente, tu resti qui, la prima foto io facevo nella torre, neanche la palla di pomodoro, l'ho vista molte volte, quindi forse ha un po' oscurato la palla di pomodoro in tutti i sensi. Per lei invece? Sì, è stata un'esperienza positiva questa torre, io frequento molto qui la zona della palla, è uno spettacolo anche il montaggio e lo smontaggio. Come l'ha trovata? Eh, è sempre una novità, le cose nuove sono sempre belle, dai, speriamo che si ripeta qualche cosa altro di simile insomma. Luogo secondo lei appropriato per l'installazione? Forse luogo non tanto perché questa è una piazza un po' particolare, però è chiaro che questo è il punto in cui tutti la vedono. Dispiaggia che la levano. Quindi comunque è positivo il giudizio? Sì, esatto. Sei mai salito? No, mai salito. Ma perché secondo lei non era appropriato il luogo? Non era appropriato il luogo sicuramente, toglie visibilità, tutto. E poi la bellezza pure della piazza. Sull'operazione Torre Panoramica per Matteo Ricci il consuntivo è positivo, grande successo è dichiarato. Tantissimi turisti residenti del territorio hanno potuto ammirare la bellezza di Pesaro dall'alto. Il ringraziamento del primo cittadino è rivolto a Massimo De Carlo, amministratore unico di The Wall, che ha scelto di investire in città un'attrazione unica in Italia. Poi alla stampa Ricci afferma di voler continuare a insistere sull'appeal della città con novità continue. si sta ragionando sulla possibilità di installare una ruota panoramica in altra zona, lontana dalla palla di Pomodoro.